Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV puntualmente tutte le mattine dal lunedì al sabato qui alle 7 insieme a voi per iniziare la giornata e naturalmente aprire lo spazio dell'informazione, noi guardiamo anche però le previsioni del tempo ma soprattutto il calendario per sapere che cosa ci dice l'almanacco e guardiamo subito con l'infografica che cosa ci arriva dalla regia, oggi sabato 28 dicembre la Chiesa osserva i Santi Innocenti e il sole sorgerà alle 7.41 e tramonterà alle 16.38, ci avviamo verso giornate un po' più lunghe, abbiamo passato sostizio d'inverno quindi di qualche minuto giorno per giorno vedremo allongarsi le giornate da ora in avanti. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, ecco qua partiamo da quelle di oggi sabato, vedete di descalie belle corpose perché è tutto un po' l'insegna della variabilità, il cielo sarà inizialmente nuvoloso, coperture nel corso della mattinata abbastanza intense, cielo poi regolarmente nuvoloso anche lungo la costa e nella prima collina nubi cumuliformi con ingresso dal mare porteranno anche le precipitazioni, vedete anche la simbologia, per quanto riguarda le precipitazioni nella prima parte della nottata sono anche a carattere di rovescio anche sui settori costieri e collinari e insisteranno nel corso della mattina queste precipitazioni però più che altro sui rilievi e quindi all'interno. Compare anche la simbologia della neve come vedete, limite delle nivicate inizialmente superiore ai millimetri ma poi in progressivo abbassamento ad arrivare fino anche ai 600 e ai 600 metri nel corso della mattinata, le temperature come è giusto pensare sono in diminuzione, vediamo la giornata di domani, di domenica dove c'è una inversione un po' della tendenza, si va verso un cielo più sereno e poco nuvoloso dove le nuvolosità insisteranno più che altro nel settore meridionale della regione e più che altro sui rilievi, non ci sono precipitazioni segnalate né tantomeno nevicate, temperature sono in lieve diminuzione nei valori massimi però. Per lunedì si sterza abbastanza decisamente verso il sereno e ho insomma qualche velatura nella prima parte della giornata, nessuna precipitazione, temperature stabili nei valori massimi. Le indicazioni per il proseguo della settimana come vedete qui da parte della protezione civile e delle marche va verso un tempo stabile per tutto il corso della settimana prossima. Insomma queste sono le previsioni del tempo e guardiamo subito i giornali, molto variegate insomma i menu delle varie testate però la cronaca è sempre regina come si dice. Partiamo dalla pagina di Pesaro, dell'arresto del Carlino, un fiume di coca per ragazzi, tre arresti, operazione complessa e lunga da parte della mobile di Pesaro partita a luglio che ha portato ad arrestare quattro persone in totale, tre nell'ultimo periodo, il 20 dicembre, e a denunciarne 11 e anche a individuare con certezza 50 assuntori abituali di stupefacenti. Ma la fotonotizia è per un lavoro per sempre, questo è il titolo, storie di Natale, il sogno di Anna, questa ragazza da un di 24 anni che sogna di avere un lavoro stabile. E poi la cronaca trovata morta in casa un'ostetrica dell'ospedale, aveva 41 anni e lo vedremo nelle pagine successive. Invece l'apertura del Corriere Adriatico è ugualmente per i fiumi di coca che sono stati scoperti nel Pesarese, stop allo sballo delle feste, moltissima del cocaina e hashish era destinato proprio ai festini sotto le festività. 50 segnalati come consumatori abituati alla procura e sono stati individuati tutti i ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Si va verso le regionali, la fotonotizia è appunto per la sfida tra i competitors, per quanto riguarda il centro-destra si va verso la sfida con il favorito in testa, non sciuperò la mia grande occasione, Acquaroli e l'investitura per il centro-destra, la cena del Duce mi dissociai per primo e puntualizza appunto questa eventualità. Pesaro appunto mette in primo piano gli arresti, vedete qui il dirigente della mobile Badioli che mostra tutto quello che è stato ritrovato, gli involuchi, vedete qui molto ben conservati, addirittura sacchetti sotto vuoto perché la droga veniva interrata in alcuni casolari in campagna e quindi insomma veramente è stato difficile rintracciare questi luoghi in cui questo grande smistatore riforniva piccoli spacciatori, però lavorava e acquistava e smerciava quantitativi impressionanti di cocaina e quindi un blitz ha smascherato sia lui che anche i suoi compari, arresti e sequestri, stop allo sballo delle feste. Tutto è iniziato a luglio scorso da un arresto di un albanese spacciatore e dal di lì la febbrile e minuziosa opera di ricostruzione di tutti i suoi rapporti a ganci e dentellati che ha portato a scoprire il suo fornitore principale e quindi il pesce grosso della organizzazione. Andiamo avanti anche qui, il resto del Carlino con Elisabetta Rossi fa il punto di questa operazione, sequestrati anche in genti quantitativi 250 grammi di neve, così detta in gergo, e 200 di hashish, 11 denunciati. Spacciavano nella zona prevalentemente del lungomare anche in pieno giorno, non solo nelle ore serali ma anche in pieno giorno durante le ore di balneazione, quindi insomma è stata un'operazione molto articolata molto complessa quella della squadra mobile, soprattutto perché non sono state potute mettere in campo intercettazioni ambientali perché pur di giovane età questi ragazzi non utilizzavano telefoni, whatsapp e niente ma il passaparola, un po' insomma alla totorina per non farsi intercettare. La CNA ha fatto il suo bilancio di fine anno e vede il bicchiere mezzo pieno dopo anni di congiuntura negativa però le ditte come numero totale sono in calo ma le imprese si riposizionano e consolidano la loro posizione sul mercato. Questa è un po' la fotografia a grandi linee di quello che è stato detto nella conferenza stampa di ieri. Il sogno di Anna, lo avete visto dal lancio di prima pagina, eccola qui con una sua opera, un lavoro tutto l'anno e quindi questa 24enne con la sindrome di Down impiegata nelle mese scolastiche ma costretta a mesi di inattività ogni anno e per consolarsi la pittura e guardate qui è orgogliosa, mostra una delle sue opere e il suo sogno però è quello di avere un lavoro stabile tutto l'anno. Il Natale, un Natale un po' diverso per questi due militari, lo hanno passato in Kosovo, sono pesaresi, fanno parte del 28esimo reggimento Pavia, impegnati nella missione Kifor e hanno fatto donazioni a una scuola o a un asilo e vi resteranno fino a febbraio a prestare la loro opera in questa missione umanitaria, dice il colonnello Renna, sono in contatto con la comunità serba e albanese, monitorano i reali bisogni della popolazione. Complimenti a tutte le nostre forze dell'ordine per il lavoro preziosissimo che fanno purtroppo spesso anche fuori dai nostri confini e lontani da casa. La cronaca trovata morta in casa ostetrica dell'ospedale, una 45enne ritrovata dai pompieri nel bagno di casa, sono partite le indagini per risalire alla morte, stimatissima dai colleghi, il padre ha allertato la polizia perché non la sentiva da due giorni ed è stato necessario fare irruzione nella casa per capire cosa era successo. A Vallefoglia c'è una controtendenza perché qui la popolazione cresce, mentre a Urbino avete visto nelle pagine dei giornali negli scorsi giorni un allarmante grido di allerta degli amministratori, dei locali per questo calo di frequenze, di popolazione e chi va via, poche nascite. Invece Ucchieli dice l'anno l'abbiamo passato e sulle sfide di quello che verrà siamo in espansione anche con le aziende private e quindi insomma Vallefoglia in controtendenza. Andiamo nelle pagine di Fano, polveri sottili, si parla di smog, di inquinamento, tre ordinanze emanate anti-smog ma nessuno lo sa, divieto di circolazione per auto inquinanti, limitazioni all'uso di camini e stuffe a pellet e giovedì scorso, questo giovedì, questa settimana, storico record negativo ovviamente per le polveri sottili e le PM10 eravamo a 122 invece che 50, questo era il valore che dovrebbe essere e poi nell'articolo Anna Marchetti parla di questo limite massimo che da gennaio è già stato sfondato più di 39 volte e quindi adesso si attende uno studio dell'Ateneo di Urbino sull'inquinamento e da lì, dicono, dall'amministrazione comunale decideremo il da farsi. Ubriaco provoca un incidente e fugge ma è stato preso. A Orciano un 34enne al volante investe un 17enne in Vespa e fugge via. Il centro storico è stato rintracciato e denunciato un 41enne tra l'altro poi che si aggirava con una balestra in maniera anche minacciosa e pericolosa. Nelle pagine del resto del Carlino si parla del volley della Befano ormai un appuntamento, una sfida che è entrata nel cartellone delle festività si svolgerà il 4 di gennaio e poi di spalla qui troviamo la solidarietà che entra in campo con una donazione trovato un fondo di 10.000 euro per la libreria gestita dai ragazzi disabili arriva il finanziamento regionale e vedete qui il consigliere Mirko Carloni nella foto con tutti gli addetti della libreria che ha portato la lieta novella nella giornata di ieri. Fano per il Corriere Adriatico si punta al San Silvestro botti e petardi vietati, fuori legge anche gli spray urticanti le proibizioni vanno in vigore da lunedì fino al 6 gennaio ma non riguardano la vendita dei prodotti quindi si possono comprare ma non si possono adoperare. opere pubbliche nell'agenda 2020 35 sono gli interventi previsti ma solo due sono cantierabili e sono la scuola materna di Cucurano e le scogliere di Sassonia 27 i milioni per il libro dei sogni naturalmente come libro dei sogni sono le opere che si vorrebbero fare lavori di ampliamento all'ospice siamo nella Val Metauro più che altro a Fossombrone vedete qui il sindaco Bonci il sindaco fa il punto sulla situazione dell'ospedale e si fermerà però l'attività di endoscopia nella Val Cesano una notizia ripresa anche da tutti e due i quotidiani un anziano si perde nella giornata dell'altro ieri allarme si è allontanato da casa intorno alle 14 dove era originario di Roma si trovava lì per trascorrere appunto con la famiglia le vacanze insieme alla figlia è stato trovato dopo tre ore di intense ricerche e anche qui nelle pagine del resto del Carlino andiamo a Pegola per questa task force di carabinieri e vigili del fuoco l'uomo non aveva con sé il cellulare e per questo non è stato facile localizzarlo con i supporti appunto informatici combatteremo per un moltefeltro unito c'è la politica nelle pagine di Urbino Londèi e Ferruccio Giovannetti a Urbino capoluogo fanno il bilancio 2019 e annunciano le battaglie per il nuovo anno l'adrinazione colpita una casa un appartamento e anche Telegianna rubati soldi preziosi fatta un'irruzione vedete qui la foto per questa brutta pagina insomma facciamo insomma il nostro diamo il nostro sostegno ai colleghi e amici di Telegianna insomma per questo momento così particolare a Urbino la politica quindi si dichiara la città dell'incisione originale d'arte e quindi a Urbino c'è la città che si incorona a questa pratica artistica Angeline accoglie la proposta di Londèi nessuna realtà ha il nostro patrimonio culturale andiamo nella pagina di Ancona ladri in azione anche nel beglione di Natale alcohol test per tutti la stradale scende in campo bene questo è tutto per la rassegna di questa mattina vi faccio vedere le due pagine di apertura pesaro, coca, fiumi per i ragazzi tre arresti un lavoro per sempre il sogno di questa ragazza down di 24 anni e poi nel Corriere Adriatico la politica in primo piano non superò la mia grande occasione parla a Quaroli e l'apertura è per la cronaca coca arresti e sequesti stop allo sballo delle feste bene la voce mi sta abbandonando frutti di stagione grazie per essere state in nostra compagnia questo che vedete in sovrimpressione apparire è il numero con quale potete entrare in contatto con la nostra redazione Occhi giornali torna lunedì mattina puntualmente alle ore 7 grazie e buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti